Oggi, perché chiaramente io leo il giornale, no venite, va a Liverpool, no, Liverpool è la mia famiglia. Io non posso andare a Liverpool perché sono allenatore del Napoli e sono molto contento e voglio vincere qua. Se dopo arriva qualcosa, Liverpool, un'altra squadra, dopo sei mesi, dopo un anno, dopo dieci anni, si vede ma oggi, oggi, no, nessuna offerta. Ho detto no a due offerte, questi 15 giorni che mi offrivano di più, di più soldi e quattro anni di contratto, ho detto di no perché io sono allenatore del Napoli e voglio farlo bene qui. E dopo vediamo, ma oggi non è una scusa, non è un alibi per nessuno dire non sappiamo, noi dobbiamo dare il 100% come allenatore e come calciatore e questo io lo faccio e loro devono farlo lo stesso. Si ha detto no a due in questi ultimi 15 giorni e nessuno l'ha saputo, non devo dirlo, lo dico per dire che il mio compromesso è qua, è lavorare per dare il 100% qua.